Anche nel 2018 in provincia di Nuoro è continuata la moria di aziende che operano nei settori del commercio e del turismo. I dati al 31 dicembre 2018 confermano la tendenza di Nato negli ultimi anni con un saldo negativo tra iscrizione e cancellazione delle aziende del settore di oltre 150 imprese, pari all'1,9% del totale. La denuncia arriva dalla Confesorcenti Provinciale che ha elaborato i dati sulla nati mortalità delle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Nuoro. Presso ok tutti i settori presentano saldi negativi, fatta eccezione per quello degli alloggio che con 23 iscrizioni e 10 cancellazioni fa registrare un più 13. Il dato più preoccupante sottolinea l'associazione o si registra nelle imprese del settore del commercio al dettaglio. A fronte di 111 iscrizioni si registrano 245 cancellazioni, meno 134, il 3,3% del totale delle imprese attive nel settore. Negativo anche il bilancio dei pubblici esercizi, meno 22 con 77 iscrizioni e 99 cancellazioni. Ormai ci troviamo da anni a dire le stesse cose, rileva Roberto Cadedu, Presidente Provinciale della Confesorcenti. Anche il 2018 ci consegna una realtà sconfortante, conseguenza di un contesto economico e sociale dove regna la rassegnazione. Una situazione poco incoraggiante che francamente non fa ben sperare. È evidente, continua Cadedu, che se non si dovesse rimettere in moto il mercato del lavoro difficilmente potremmo assistere ad una ripresa dei consumi. Difficilmente infatti in una realtà come questa le famiglie potrebbero abbandonare la fase di rinunce e ristrettezze a cui ormai si sono abituate negli ultimi anni. Inoltre, conclude il direttore regionale della Confesorcenti, Gian Battista Piana, non ci stancheremo mai di evidenziare che il settore sconta tra le tante difficoltà l'assenza di qualsiasi tentativo di contrastare il proliferare dell'abusivismo che indisturbato sfugge ai più elementari controlli previsti per esercizio delle attività economiche. Il fenomeno ha ormai raggiunto dimensioni tali che un'azione decisa di contrasto nell'immediato darebbe alle imprese regolari maggiori benefici di quanto potrebbero fare qualsiasi altra decisione, manovra o legge.